E Poste Italiane, restiamo sempre in tema pandemia, ha istituito un permesso retribuito per la partecipazione ai dipendenti alla campagna vaccinale Covid-19. Tutti i dipendenti potranno infatti usufruire di permessi per un massimo di due giorni complessivi di calendario, uno per la somministrazione di ciascuna dose di vaccino a giornata intera o ad ore. Per aderire è necessario compilare il modulo presente sulle intranet noi di Poste e consegnarlo unitamente al documento di prenotazione del vaccino alla propria funzione di gestione del personale.